E' l'amento di un peccato, di una molta birra, di un molto vino. Si dice che se aveste sostituito la Bohème con la classe, la classe avrebbe influito su voi e così voi non vi sareste più accapegliato. Già come se la classe spegnesse la sete col quass, la classe anche lei non sferza nel dire. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.